Ragazzi, noi abbiamo venuto in questo nuovo vlog, stiamo a prendere il tram per andare a Firenze e saluto Antonio e iscrivetevi. Ok, ci vediamo sul tram. Stiamo partendo e c'è tanta gente. Ora devi fare attenzione alle mani. Siamo arrivati a Firenze e c'è giusto un po' di gente. Ok, ci rivediamo a risparrute. Percibiscire, ma da andare al ristorante. C'è tutta questa gente. Scusate per le luci, ma al ristorante... ... 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